Le sue, tra virgolette, piccole mancanze invece a livello artistico, mentre siamo già sulla trave con la Marinescu, dopo che Adriana Crisci ha purtroppo pagato quell'errore, il livello dell'esercizio era molto tecnico e quindi ha pagato con un 9,325, figuriamoci cosa avrebbe potuto ottenere senza quell'errore. Ecco quest'ultima serie di salti agrobatici, flicksalto, flicksalto, ma interessante è stato l'elemento che ha preceduto questa serie, che era un salto dietro con un avvitamento, 360 gradi quindi sulla trave, salto dietro con un avvitamento. Ecco una ruota senza appoggio delle mani, Ajambe e Fliflac, parte finale, rondata, doppio le merci, un passaggio dell'interno.